La mia lo sapevo che tornava a casa, mi chiamava tutti i giorni. No, sta bene, un po' stanca, ma sta bene. È tornata a casa la diciassettenne di Ponte d'Era, data per scomparsa dal 14 gennaio insieme a una sedicenne di Reggello. Avrebbero trascorso gli ultimi giorni in un appartamento a Firenze dopo essersi conosciute l'estate scorsa. Loro praticamente si conoscono dall'estate, non c'era il Covid, e si vedevano nei pub, nelle discoteche, andavano a ballare insieme, in gruppo tutti gli amici. Era una cosa tranquillissima. E anche questa cosa qui è nata così, c'è un ritrovo, diciamo. Un ritrovo, che stavano insieme a Firenze. Adesso che c'è il Covid, su Booking, avevamo preso l'altro fine settimana un appartamento e stavano lì tutti insieme. Diversi i racconti delle due famiglie sull'allontanamento delle giovani. La madre della diciassettenne non aveva denunciato la scomparsa perché, proprio attraverso i social, la sentiva tutti i giorni e sostiene che la figlia stesse solo facendo compagnia all'amica che voleva stare, lontano da casa. Questa ragazza non si trovava, però faceva le dirette, era sempre sui social, dimostra che sta bene, che non è successo niente, che non era vero niente, quello che diceva la mamma, che era stata rapita, che era in mano a degli aguzzini. Poi però è successo che la figlia di questa ragazza non voleva rientrare a casa per problemi loro. Cioè, questo non ha nulla a vedere con la mia figliola. La mia figliola è rimasta lì per fare compagnia. Secondo i genitori della sedicenne reggellese, invece, sarebbe stata proprio la ragazza di Pontedera a plagiarla e a convincerla a scappare. Purtroppo la famiglia dell'altra ragazza si è messa in testa che la colpa è tutta della mia figliola. Penso ci sia, ora stiamo andando a vedere dall'avvocato, penso ci sia una denuncia per plagio, qualcosa del genere. Va bene, ci difenderemo. Sul caso, per quanto riguarda la lunga assenza da casa della minore di Reggello, va avanti il lavoro dei carabinieri di Figline Valdarno, ai quali si erano rivolti i genitori della sedicenne.